L'integrazione BTE è uno dei fondamenti, soprattutto perché lo possiamo fare in ogni istante della nostra vita. Cioè tu in ogni istante poi ti viene un pensiero, ok, pensiero, mente, yantra. Ascolta cosa fa sentire nell'anima, voce, mantra e qual è la postura, l'atteggiamento nel corpo. Questo lo puoi fare in ogni istante. Mantenere insieme il tuo pensiero con il sentire e con l'agire nello stesso momento fornisce un potere trasformativo enorme a qualsiasi condizioni nella quale tu sia. Volevo chiederti come giudichi come metodologia le costellazioni rispetto a questa capacità di integrare questi tre aspetti, questi tre frati. Il lavoro di captazione è il lavoro di costellazione, nel senso che capti le varie parti della persona o di te. Per cui certamente le costellazioni sono un aspetto cruciale. Cioè le costellazioni inteso come riconoscere, elevare su personalità o su personalità identificate, cioè della storia personale, o, e noi lavoriamo con costellazioni archetipiche, o le, diciamo così, le sovra personalità archetipiche e farle dialogare è qualche cosa di assolutamente fondamentale, sia nella BTE che ovviamente è il cuore delle costellazioni. Per cui, certamente, questa integrazione di cui ti parlo, l'integrazione di biotransenergia, l'integrazione di mantra mutrayantra, però è un'esperienza interiore che va al di là di qualsiasi, lo puoi mettere all'interno delle costellazioni così come in qualsiasi altra cosa. Per questo che io vi dicevo anche che la BTE può essere vista come un metamodello. Perché se io mi porto l'integrazione BTE all'interno del mio lavoro di costellazioni, io offro alle costellazioni un potere. Se tu stai nel campo dove sei messo, dove devi lavorare, non presta attenzione solo a quello che senti, ma all'atteggiamento corporeo, al senso sentito, alla visione. Quello che tu dici acquista un potere molto più trasformativo. Adesso vi faccio un altro collegamento che è con lo sciamanesimo, oppure anche con lo zocen che può essere considerato una tradizione spirituale che attinge molto lo sciamanesimo. Si parla della trasmissione, il maestro ti dà la trasmissione. Oppure si parla del mana, del potere che c'è nelle cose, del sacro potere di ogni cosa. Ok, io ti dico guarda che ogni cosa ha potere, va bene, grazie. Oppure io ti dico guarda che per accorgerti che ogni cosa ha potere, fai una cerimonia. O per accorgerti che ogni cosa ha potere, canta agli dèi, agli spiriti, piuttosto che accendi il tuo altare, ti dico una tecnologia per precipire la sacralità e il mana, il potere delle cose. Ma se tu fai integrazione di mantra e muda yantra, sei connesso direttamente con il potere spirituale delle cose. Lo senti dentro. E allora la cerimonia esteriore diventa lo puoi fare o no. Nel senso che non è più necessaria, perché la cerimonia è quella alchimia interiore di integrazione. C'è integrazione, c'è unità, c'è connessione con il sé. Cioè questo potere spirituale che esiste nell'universo lo percepisci e lo esprimi con le tue parole, con i tuoi gesti, con i tuoi sguardi, con i tuoi... Per questo che dico, è così importante o può essere così importante l'integrazione e la comprensione, l'utilizzo. Però se noi lo facciamo una volta e lo lasciamo lì e andiamo avanti a fare altro, tendiamo a perdere il suo potere. Grazie a tutti.